Il nostro sindaco ha sicuramente delle osservazioni da fare proprio per sottolineare tutto il lavoro che fino adesso è stato fatto da parte dei tecnici, da parte dei ragazzi che hanno fatto parte di questo bellissimo progetto e che seguitano a trovare momenti di lavoro interessanti per promuovere il territorio e come abbiamo appunto detto far vedere le bellissime location che stiamo proponendo itineranti nelle marche ma anche nelle zone limitrofe e qui con il sindaco adesso sarà lui a darci qualche impressione proprio in merito al lavoro che è stato fatto. La sensazione è che il progetto stia funzionando e il resto dietro location e fashion si scelga in realtà dopo di Colombo il fatto di poter mettere a disposizione della comunità ma anche del tessuto economico la bellezza della nostra città, una città di cui ormai da tempo si lamenta la inadeguata valorizzazione di quella che appunto è la sua caratteristica principale, la bellezza non più tardi di qualche giorno fa è stato addirittura Fiorello a raccomandare ulteriormente a tutti compreso il sottoscritto che la bellezza fosse messa in condizione di produrre la redditività che merita una città che generalmente non tradisce mai le aspettative di quanti hanno la possibilità di incontrarla e con location e fashion è un modo di incontrare Ascore ma è anche un modo di rappresentare una piattaforma per le potenzialità economiche di questo territorio che grazie alla bellezza possono essere messi nella condizione di valorizzare i propri prodotti